Ben trovati ai nostri gentili telespettatori, ben trovato Sindaco, grazie per l'ospitalità. Siamo qui a Palazzo San Giacomo per fare il punto sulla settimana appena trascorsa, ma soprattutto sulle prossime iniziative. Cominciamo proprio da un'iniziativa che riguarda tutta la città di Napoli, che è stata ufficialmente presentata quest'oggi in conferenza a stampa, trattasi del piano di riqualificazione della illuminazione pubblica. Un progetto che da un lato garantisce risparmio energetico, dall'altro lato invece viene incontro alla questione sicurezza. Sì, è una giornata importantissima per la nostra città, perché è stata giudicata la gara sull'illuminazione pubblica in città, si parte da questo mese nel giro di due anni, quindi nel 2017 e nel 2018 il 95% del territorio cittadino sarà interessato dal cambiamento di tutta l'illuminazione pubblica. Quindi arriverà dove non c'era ancora e migliorerà dove c'era l'illuminazione attuale. Quindi parliamo di più sicurezza, più luce, più risparmio economico, più risparmio energetico, più innovazione, città più smart e quindi più sicura, e decoro e arredo urbano. Quindi siamo molto contenti perché è un'operazione fatta con fondi comunali, con fondi europei, in cooperazione con il mondo del credito cooperativo delle banche, è un'ottima sinergia anche pubblico-privata e l'aggiudicazione di Sitelum, quindi anche un appalto importante che anche dà lavoro nella nostra città. Ma siamo davvero soddisfatti. Si comincia dalle gallerie della città, tutte quante, che saranno con l'inizio dei lavori a gennaio, quindi progressivamente poi saranno fatte tutte, le periferie, con dei segnali importanti subito nelle periferie, i luoghi poi culturali e artistici della nostra città. In due anni Napoli avrà un'illuminazione che non ha mai avuto nella sua storia. Oggi, sindaco, una giornata importante perché c'è un grande evento al Teatro San Carlo, promosso e organizzato da Alessandro Siani, noto concittadino attore, il quale ha voluto invitare Diego Armando Maradona. C'è dunque una grande festa in città per questo ritorno tanto atteso del calciatore più amato della storia del calcio Napoli. Ebbene, ieri la conferenza stampa a cui lei ha preso parte, ha salutato il calciatore dicendo che il calcio è cultura, ma lo ha anche invitato per un prossimo evento che ci si augura possa essere aperto in qualche modo alla città, a dispetto di quello di quest'oggi che invece è un po' più elitario. Sono cose diverse. Questa è un'iniziativa che ha voluto fortemente un altro grande napoletano, che Alessandro Siani ha voluto portare Maradona al Teatro San Carlo e come presidente del Teatro San Carlo non ci ho visto nulla di male, ma l'organizzazione è tutta di Alessandro Siani. Io credo sarà una bellissima serata e trovo bello che un genio del calcio, un artista come il calciatore Maradona entri al Teatro San Carlo. Poi sull'uomo Maradona, come su ogni uomo, ognuno può avere le legittime opinioni, ma come calciatore è stato il numero uno e il nostro numero dieci. Noi invece come città di Napoli pensiamo effettivamente per la primavera, spero a maggio, nell'organizzare insieme a Diego e speriamo anche insieme alla società Calcio Napoli un grandissimo evento popolare, gratuito, preferibilmente allo Stadio San Paolo, altrimenti anche a Piazza Prebiscito e in quell'occasione oltre che abbracciare Diego nel ricordo dei 30 anni dal primo scudetto conferirgli anche la cittadinanza onorare. Tra l'altro Diego si sente napoletano perché ieri conferenza stampa nel dire che il Teatro San Carlo è il teatro più bello del mondo ha detto siamo fortunati perché ce l'abbiamo noi napoletani, quindi egli già si sente formalmente anche cittadino napoletano. Parliamo del sondaggio sindaco che è stato presentato, svolto dal Sole 24 Ore, che stila una classifica dei sindaci italiani più amati dalla cittadinanza, dalla popolazione e lei si trova praticamente al quarto posto con un 60% di gradimento. Sì, anche a voi di Napoli TV più volte ho detto che io non sono un uomo che rimane affascinato dalle statistiche e dai sondaggi, sempre, è stata una mia linea di indirizzo da sempre, quindi ritengo che il sondaggio quello importante è quello che si fa per strada, quando incontri centinaia di cittadini, di persone e ti rendi conto come è il vento, come tira e poi c'è il sondaggio più importante che è quello per un uomo politico che ci mette la faccia al momento del voto. Poi ci sono i politici nominati o quelli che fanno carriera grazie ai partiti. Io che non ho partiti, non ho movimenti, non ho apparati, non ho strutture, il mio contatto è esclusivamente con la gente. Tre volte mi sono confrontato con le elezioni, tre volte sono riuscito a vincere grazie alla gente che mi ha dato evidentemente fiducia. Certo, poi quando si legge su un giornale autorevole come il Sole 24 Ore che si è tra i primi sindaci d'Italia, vuol dire che anche laddove prima tutti si ostinavano a dire che eravamo ultimi e che non era vero, evidentemente il vento del cambiamento sta colpendo anche i più scettici, quindi questo significa per noi non crogiolarci, perché anzi siamo sempre molto attenti a non farci girare la testa, ma lavorare e lavorare esclusivamente nell'interesse di Napoli e dei napoletani. Si è ufficialmente ma soprattutto pubblicamente congratulato con le forze dell'ordine per aver svolto in maniera esaustiva ma soprattutto tempestiva la vicenda che ha riguardato la sparatoria avvenuta la scorsa settimana nel centro di Napoli, nei pressi della ferrovia in cui è stata ferita anche una bambina innocente. Sì, mi sono congratulato molto con la Polizia di Stato, ovviamente con la magistratura per questa operazione così brillante, tempestiva ed efficace. Un manipolo di delinquenti ha colpito due simboli della Napoli del Rinascimento, i bambini, colpendo una bambina innocente di dieci anni e quattro esponenti della comunità migrante senegalese che si erano posti a pagare il pizzo e che poi hanno dato il loro contributo come tanti di noi per ricostruire rapidamente giustizia e verità e ci auguriamo che la Polizia di Stato abbia individuato gli effettivi responsabili della vicenda criminosa che poi sarà la magistratura nella sua autonomia prima nella fase inquirente e poi in quella giudicante di accertare le responsabilità. Noi ci costituiremo parte civile perché Napoli è stata danneggiata ed è danneggiata la Napoli che cambia, anche quel cambiamento di cui alcuni sostinano a non vedere e che quindi le vittime di quell'atteggiamento sono innanzitutto la stragrande maggioranza dei napoletani che sono persone per bene, la città di Napoli, oltre che ovviamente i quattro serigalesi e la bambina, prime vittime di questo agguato inaccettabile e criminale nella nostra città. Chiudiamo Sindaco con questo asse Sindaco dei Magistris Saviano, questo tan tan botta in risposta, una polemica che ha coinvolto tantissimi opinion leader, si è esposto anche John Woodcock il quale però invita ad una stretta di mano. Ribadiamo però la sua posizione, lei ha detto io da Sindaco di questa città non posso non rispondere ad accuse che vengono mosse, soprattutto quando vengono dette delle cose non vere, da chi questa città non la vive nel quotidiano. Io lo dico affettuosamente a tutti, ovviamente anche al mio ex collega Henry John Woodcock, qui non c'è una sfida a duello e soprattutto non siamo stati noi i primi, Saviano ha fatto una ricostruzione assolutamente sbagliata a nostro avviso, ingiusta, io che sono il Sindaco di Napoli ho sentito il diritto dovere di ricostruire i fatti nella loro compiutezza, detto questo se vedete le mie dichiarazioni da 5 anni, da 6 anni, più volte ho invitato Saviano a un incontro, a venire a Napoli, a confrontarsi, a dare una mano, quindi non sarò certo io a non tendere la mano a Saviano come ad altri, noi siamo persone di dialogo, siamo persone di pace, però siamo anche persone di giustizia, se qualcuno scrive pagine ingiuste noi siamo naturalmente ribelli a tutto questo perché stiamo costruendo una città ribelle nei confronti dell'ingiustizia, ma lo facciamo senza arroganza, qualche volta anche con un po' di ironia, qualche volta con una certa ricostruzione dei fatti che qualcuno vuole negare, insomma noi non ci estineremo mai a raccontare la Napoli bella, la Napoli che cambia, insieme al racconto, come abbiamo fatto sinora, dei problemi, delle cose anche difficili, delle cose tristi, perché l'amore è grande quando si amano anche le cose difficili, le cose complicate, le cose complesse che ogni giorno cerchiamo di cambiare, quindi se Saviano vuole, se Saviano vuole venire a Napoli, la vuole vivere anche solo per qualche ora, vuole fare quello che ritiene, noi non ci gireremo mai dall'altra parte, siamo sempre pronti a tendere la mano, lo dico a Vuducoc, lo dico a Cantone, lo dico a tutte le persone che è bontà loro, in questi giorni si sono premuniti di fare un appello alla pace, il Sindaco è un grande uomo di pace da questo punto di vista, anche se è molto piccolino rispetto ai tanti colossi che ogni giorno ci dedicano più o meno e ci aiutano nel portare avanti la nostra città. Grazie Sindaco, buon lavoro.